non perdiamo i pezzi per la strada non perdiamo i pezzi abbiamo fatto 4-5 step non perdiamo i pezzi cosa si può fare lì? di movimento possiamo fare allora abbiamo provato esco esco vengo fuori vengo dentro per portare palla dentro e ha fatto esco fuori per attaccare lo spazio dietro i pezzi esco fuori off dentro giocata possibilmente sul piede distante giocata e dentro non facciamo sempre le stesse cose cerchiamo di variare abbiamo 3-4 possibilità cerchiamo di variare decidete voi ma variate vai vai la cadiamo vieni sotto bravo vai bravo vai qui hai dato farla fuori vai fuori vai vieni decidi saluta saluta calma dai sotto 1-1 è finita bravo bravo vai vai decidi guardate gioca sotto pai sotto buona va bene buona vai gioca va bene decidi bravo buona giocata vai sotto decidi Bebe, è sotto, vieni dentro, vieni dentro, fai capire al compagno quello che puoi fare, sotto, vai, ora, non vuole niente, non vuole andare verso, vai.